La lega italiana fibrosicistica Veneto Onlus ha lo scopo di sensibilizzare le persone sulla malattia, su questa malattia terribile che si chiama appunto fibrosicistica. Raccolgono dei fondi per i pazienti dell'ospedale di Verona Treviso ma soprattutto vogliono far capire alle persone cosa comporta questa malattia invisibile ma che però c'è. Al momento non c'è una cura, non si possono curare i pazienti, l'unica speranza è un trapianto di polmoni ma soprattutto bisogna tenere presente che è meglio evitare la malattia facendo degli esami specifici prima di un'eventuale gravidanza. Grazie per la visione!